Se dovessi descrivere la mia vita con un obiettivo direi che la parola giusta è libertà. Ho sempre fatto di tutto per ottenerla. Da tempo non ne parlo. Da tempo cerco di nascondere il fastidio quando ne sento parlare. 27 anni per arrivare al minimo sforzo e al massimo risultato, per poi trovarmi prigioniero in una gabbia d'oro creata da me stesso, chiamata per l'appunto libertà. Quando stavo per compierne 26 di anni ho avuto come un sussulto interiore. Ho avuto paura. D'un tratto, pur essendo giovane, la mia prospettiva si specchiava in quella di un uomo adulto e vedeva riflesso lo sguardo di un adolescente. Stavo girando attorno al punto senza centrarlo. Per essere libero non lo ero affatto. Il macigno che mi portavo addosso non riuscivo a sopportarlo. Era arrivato il momento di rischiare il tutto per tutto, togliermi di dosso lo spettro del mio passato. La vita è sempre stata un passo. Io l'ho vissuta stando a riva, sognando l'alto mare, credendo di esserci già. La ricerca, la speranza, il desiderio dell'amore hanno messo in ginocchio i miei sentimenti per tutta la mia esistenza. Credevo che i soldi e l'ambizione mi avrebbero aiutato a colmare i miei vuoti, ma mi stanno solo aiutando a sopravvivere fondamentalmente. Nel mio momento di massimo successo personale non ho nessuno con cui condividerlo e questo alimenta la solitudine. Sono libero e solo come non sono mai stato prima. Credo di vivere una crisi di mezza età, ma con dieci anni di anticipo. Non sono un cane, non sono un lupo, so soltanto quello che non sono, come balto. E anche se ho imparato ad apprezzare ciò che sono, il mio dolore rende le mie consapevolezze interiori vane. Vengo da un pomeriggio molto avvilente. Ero uscito con un amico per poi trovarmi immerso in un gruppetto carico di coppie e in sana ignoranza. Io detesto le coppie, mi fanno sentire fuori luogo. Sarà che le ragazze che mi piacciono del resto sono sempre meno. Ne ho provate parecchie, ma le abitudini superficiali di questa società moderna hanno fatto una terribile selezione di persone in grado di capire il mio grado di profondità. Oltre al fatto che i miei coetanei in giro sembrano dissolti. Mia madre, mio padre la definisce il bastian contrario. Dice sempre il contrario di quello che dici tu. Per tutta l'adolescenza mi ha definito una persona malata e ho dovuto lottare per rivendicare la mia condizione di sanità mentale. Adesso, mentre mi crogelo nel mio dolore, mi dice che non sono depresso. Semplicemente non ho un lavoro che mi offre compagnia e non ho una compagna che mi ami. Io credo invece di soffrire di depressione. Da sempre. Come diceva lei del resto. La depressione non è una cosa che si manifesta sempre nella tristezza, anzi, spesso si prende una pausa. Imparare a conviverci vuol dire non valutare ipotesi drastiche come togliersi la vita durante i periodi peggiori e godersi gli sprazzi di serenità senza illudersi troppo durante la felicità. Forse mia madre ha ragione stavolta. Quello che mi manca è semplicemente il calore di un abbraccio, cosa che vedo in tempi troppo distanti tra loro e quando lo vedo non so mai quanto sia autentico. Siamo noi a scegliere o i nostri inconsci? C'è gente che senza fare neanche una scelta nella vita ha dei figli e una moglie e io per ogni donna che ho avuto invece mi sono rimaste delle poesie e dei brani. Ho solo cercato amore fondamentalmente e mi sono ritrovato pieno di pagine scritte e una discografia alle spalle. È come se fossi vaccinato al virus delle relazioni. Ogni volta che provo a infettarmi la mia psiche rigetta. Anticorpi dell'anima, chiamasi semplicemente esperienza. Sono libero. Faccio il lavoro che voglio certo ma non sono felice. È orribile svegliarsi e addormentarsi soli. Soprattutto se la paura più grande è svegliarsi con una sconosciuta accanto che ha il coltello della tua vita dalla parte del manico. Potrei parlare per ore d'amore. Potrei insegnarlo all'università ma fondamentalmente questo è tutto quello che so.